In Calabria arriva Massimo Scura, 72 anni, ingegnere chimico in pensione, un ex manager delle Asle Toscane scelto, secondo le cronache, dai sottosegretari del Rio e Lotti. Calato dall'alto, il commissario ha il piano di rientro dal deficit sanitario, manco a dirlo, infischiandosene delle rimostranze del governatore Mario Oliverio, che deve accettare, ob d'ortocollo, anche la conferma di Andrea Orbani come subcommissario, sponsorizzato dal tandem Gentile Lorenzin. In Consiglio dei Ministri, ieri, ci avrebbe provato a far sentire la sua voce il governatore che rivendicava la sua nomina, non per questione di pennacchio, ma di sostanza. Cambiare, rivoluzionare la Calabria, significa anche e soprattutto mettere mano alla sanità. Varierà comunque la sua riforma del comparto, Oliverio, ma se fosse stato investito dei poteri del commissario sarebbe stata tutt'altra cosa. Ha alzato la voce il governatore anche per contestare la latitanza del premier e del governo. Mi avete lasciato solo, ha gridato, solo mentre il polo oncologico di Germanetto chiude, solo mentre all'annunziata di Cosenza i medici scioperano, solo mentre gli ospedali, lasciati in eredità da decenni di sprechi, business e mala politica, non ce la fanno più, solo a farsi carico delle migliaia di lavoratori senza più stipendio e futuro. Qualcuno dei ministri presenti l'avrebbe buttata sul politichese, ma la sostanza, quella, resta. Oliverio annuncia ricorso in sede giurisdizionale, lamento uno sguardo istituzionale prima che politico.